io sto provando continuo a cercare il don dentro le chiese prima che arriva il giorno del match confermato anche da noi e adesso mi trovo davanti questa chiesa che dite ci sarà il don proviamo ci sei non c'è sa se c'è il don continuate pure a cattà ma se donna lì quindi dove casta taglia che sta vicino il giorno del match ciao